Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo qua in un episodio di Puodire la sua innanzitutto prima di spiegarvi il team eccetera volevo ricordarvi un paio di cose, vabbè ricordarvi o dirvi allora prima, cioè sono mezzo malato, scusate se ho la voce un po' bassa e roca e sono mezzo influenzato diciamo come seconda cosa vi volevo ricordare che in descrizione c'è il mio twitter in cui voi potete mandarmi tutti i vostri team per puodire la sua con un pokemon o una core, diciamo un team abbastanza strano che volete che giochi perché appunto mano che sta andando avanti le mie idee, non dico che iniziano a scarseggiare però ho un po' di team da parte ma man mano stanno lentamente finendo ultima cosa volevo ringraziarvi per la live di giovedì sera che è andata molto bene e tra l'altro volevo iniziare una cosa come un paio di live a settimana una di team building e una di lotte in battle spot, io farei mi sono imparato un po' col pardo e vedendo appunto i giorni in cui le fa lui mi ha detto che di solito il lunedì e il giovedì lui non le fa quindi io direi di fare se riesco sempre il lunedì live di team building e il giovedì live sul battle spot o con lo stesso team che abbiamo buildato lunedì oppure con un altro team poi adesso vediamo questa settimana che voi state vedendo i video questo martedì probabilmente giovedì sera se riesco faccio una live in battle spot con qualcosa o con il team che abbiamo buildato giovedì scorso oppure un altro e poi dalla prossima settimana se riesco appunto iniziamo con questa cosa di lunedì giovedì fatemi poi sapere, lasciano un sondaggio qua se vi piace l'idea e boh, iniziamo col team che abbiamo già usato abbastanza tempo allora, team, questo team sembra incredibile ma ha fatto top 8 allo special di Lill vi chiederete come? Non lo so neanch'io allora abbiamo Naganadel, leggo perché è il computer qua Naganadel Choice Packs con Draco Meter, Heat Wave, Sludge Bomb e Sludge Wave diciamo va, Heat Wave per colpire i Pokémon tipo Kartana penso sia quasi solo per lui e forse per Groudan poi abbiamo Sludge Wave che poi vi spiegherò praticamente questo team è un team suicida nel senso che a vista d'occhio non sembra esserci nessuno che su cui farsi addosso Sludge Wave Specs poi vi vedrete, tra l'altro team, tra l'altro questo ragazzo del team che mi ha passato è un ragazzo francese appunto che deve farci ancora il report lui ha detto di... che prima o poi lo farà speriamo e me l'ha dato tipo in anteprima quando l'ho beccato su Showdown pure lui quindi per ora l'export non ci sarà in teoria in descrizione poi abbiamo Tapu Bulu a South West con Ornish, Wudhammer, Super Power Stone quasi set classico di Bulu se vogliamo definire un set di Bulu questo non regge Sludge Wave, ve lo dico ok, per forza poi abbiamo Choker Scarf Waterspout Origin Pulse Cold Thunder classico poi abbiamo i Veltal Dread Plate che fa la stessa cosa degli occhiali neri sarebbe la... diciamo la piastra... cioè insomma la piastra oscura quella che potrebbe essere una mossa di tipo buio con... no, con Full Play Sucker Punch e Tailwind senza Protect ok, nel frattempo abbiamo... ho notato ora che abbiamo una Protect in tutto il team quindi bene così poi abbiamo Scolipede che secondo me è reputo bello ma sono di parte perché mi piace la quinta poi abbiamo Colipede con Jolly con Sword Dance, Poison Job, Mega Horn e Protect come look su di cui possiamo farci volendo Self Sludge Wave più o meno e poi abbiamo Sarina ascoltate bene Sarina, Chiebia Berry che non so neanche come si chiama in italiano la bacca che resiste il veleno praticamente con... vabbè, con Power Rip Feint Helping Hand e Protect ok, l'abbiamo anche su Starina la Protect e... questa Starina ho calcolato abbiamo calcolato ieri dai miei amici che... regge Helping Hand più Self Sludge Wave Specs neutro di Naganadella rosso ma lo regge quindi è fatto apposto per fare Helping Hand Sludge Wave questo tizio è veramente un pazzo quindi direi di andare subito in Battlespot che ho già parlato troppo per le mie standard e... boh, andiamo ok, becchiamo Gaug dalla Toscana Italia chiaramente con il classico team di Xernogre con... con Tornadus, Cartanandus, Incinerar allora, premetto che non ho mai giocato una partita con questo team quindi non so assolutamente come vada giocato solo che qua è un po' un problema avendo soltanto una Protect tipo io li direi qua Iveltal, Naganadella con dietro Chiogre e... con dietro Chiogre e Scolipede direi eh... sì con dietro Chiogre e Scolipede anche se Vulu qua... no, 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 c'è anche Tornadus proviamo così mai giocato questo team ovviamente una partita di prova potevo anche farla prima di... di... di registrare questo video però, vabbè, capita abbiamo... ho ridato così perché vorrei provare a pareggiare la Tailwind di Tornadus speriamo... ok, Xernogre e Incinerar ok, ragazzi, lo dico anche dopo ma lo dico anche prima perché magari qualcuno poi... al dopo non ci arriva mi scusi in anticipo come al solito se sta qua perché mi sta dando veramente troppi problemi ma non avevo tempo di registrare un'altra lotta e questa è venuta fuori davvero una bella lotta quindi vi invito a guardarla comunque anche senza facecam e boh, alla prossima ritorna qua... diciamo che lui penso faccia chiaramente fake out e geomansi quindi... anzi, anche se in realtà li possiamo noco fare qua... cioè non dico tranquillamente perché... tra l'altro se non ho visto male è partita prima la sua aura che è la nostra stavo guardando un attimo quanto a speed avesse gusti Veltal siamo max speed quindi è una speed tie ora, fatemi pensare se giocarmela o meno perché... sinceramente mettendo... anche mettendo Tailwind poi Naganadel io fari sludge o un benokov non è che abbiamo molte possibilità di unmo vincere la speed tie perché anche mettendo Tailwind poi da boostato Naganadel cioè un po' gli fa essendo specs però... non troppissimo e... diciamo che... io vorrei shottarlo subito se possibile anche se non so se muoia vediamo dovremmo vincere la tie speriamo per favore i Veltal anche se io potrebbero farsi tipo protect e knockoff o qualcosa del genere infatti non usavo una protect più qualcosa qua potremmo predictare fare tipo Tailwind non so lui cosa abbia fatto forse Yuturno knockoff knockoff su Naganadel ah no knockoff sui Veltal ok crit giusto giusto se no non ci avrebbe fatto abbastanza knockoff di qua e sludge bomb di qua non saprei perché lui no no niente perché non siamo più veloci con Naganadel di Xerneas se no fatemi vedere vada questa Naganadel quanto l'ha fatto 167 si outspeed di un punto Xerneas è fatto apposta qua allora saperlo prima potevamo fare anche Tailwind prima e sludge bomb su Xerneas facciamolo ora che tira Xerneas per Cartana per Amelus ok va bene va bene va bene Naganadel usa sludge bomb lui chi ah no che l'abbiamo grittato qua lui pensa proprio ci faccia knockoff pure su Naganadel vediamo no retromarcia ok ok non ci toglie la l'annulla spex si ciao magari ok qua problema Xerneas al setup libero forse dovevamo loccarci su sludge ok no però avrebbe potuto Tornadus va bene se avessi potuto Xerneas avrebbe potuto fare Geomancy più ok però Tornadus quindi non ha Cartana questo è un bene perché così sappiamo che sludge bomb andrà sempre a segno qua direi una bella privazione più sludge bomb su Amungus direi proviamo così anche se li penso posso proteggere Amungus su Charlie su Incineroar vediamo un po' diciamo che non siamo partiti malissimo con la lead quantomeno Amungus usa polverabbia ok va bene siamo più veloci con la canale ci prendiamo il boost tra l'altro e vi assicuro che quando ci prende il boost sto coso fa danni da spex soprattutto ok che lui ci ha pareggiato la tailwind siamo comunque sempre in speed tie con Xerneas quindi la morale è sempre quella di vincere la speed tie perché lui si entra con Incineroar e ci fa fake out Geomancy noi dobbiamo o vincere la tie o vincere la tie perché ci fa fake out su una canale qua non so con chi possa entrare penso con Incineroar perché davanti una canale da più due si fa protect sack qualcosa del genere qua io non vorrei dargli il free switch se butta Xerneas vediamo non è messa propriamente bene anche perché noi dietro abbiamo comunque ancora scolipede non che ok intanto guardo qua perché ripeto il computer qua per vedere se tutto procede bene qua vediamo indeciso il nostro avversario che è Xerneas direi di doppiare Xerneas ma non perché cioè non perché so che proteggerà quasi sicuramente però non voglio dare il free switch su Incineroar in modo tale da fargli fare fake out Geomacy quindi direi assolutamente doppio su Xerneas ok ritero per Incineroar ok va bene ha fatto l'ha proprio switchato vabbè va bene più o meno però ha protetto sicuramente Xerneas ok qua noi potremmo pure switcharlo i Veltal da un momento all'altro tra l'altro dietro non mi ricordo che abbiamo anche Chiogre Scarf giusto giusto qua a saperlo prima avrei switchato Chiogre sto giocando un po' maluccio perché ok abbiamo l'ultimo turno di Tailwind nostro se non sbaglio si qua farei knockoff e sludge bomb direi di sì direi che possiamo vincere la spittai pick out su Naganadel chiaramente ti prego Ivelthal crit ancora perdiamo la spittai benissimo questa partita non poteva andare peggio ok allora qua diciamo che siamo messi maluccio perché Naganadel muore da da Moonblast a più due ovviamente vediamo anche The Dating penso muoio sinceramente mamma mia potevamo vincerla la spittai cioè questo è non dico cioè è un pazzo perché se l'è rischiata però vabbè io qua rimetto Tailwind e non lo so e provo a buttare Scolipida anche se penso che la faccia Dazzling Glimm ma non penso di avere molte possibilità dai facciamo così Tailwind Sludge Bomb non penso che regga mai Naganadel no infatti infatti tra l'altro quel crit di fake out che comunque ha influito perché non dico che avremmo forse retto ma non lo so bisognerebbe calcolare sinceramente vabbè 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 mamma mia mamma mia sempre queste spit tie ok tra l'altro di solito davanti ai Veltal Geomancy non si fa quasi mai soprattutto se sia in spit tie lui ok sì in questo caso se te la doveva rischiare perché altrimenti senza questa spit tie non avrebbe potuto vincere e e nulla ha avuto ragione essendo che che l'ha vinta vabbè io qua farei non so farei poison job su Xerneas usa ancora Dazzling ok qua non so cosa abbia fatto perché settiamo su entrambi e poi facciamo poison job ora non so quanti danni faccia Scolipede no non ne fa abbastanza non penso faccia così tanto non credo ma cos'è sta animazione invece ha fatto così tanto grande Scolipede che tra l'altro ora ci boostiamo la speed con speed boost come si chiama l'acceleratore quindi ok abbiamo vinto tutta una partita piena di lamentele per la speed tie e poi abbiamo vinto comunque grande Scolipede ok perfetto qua Origin Pulse e poison job tanto muore sempre veloci perché con speed boost tra l'altro abbiamo superato il nostro Kyogre Scarf perfetto ragazzi qua grandissimo Scolipede ce l'ha fatta vincere davvero lui buona la prima non so come abbiamo vinto con questo team GG il nostro avversario italiano che non penso ci segua ma GG comunque e quella speed tie dopo quella speed tie pensavo veramente di aver perso la partita fortunatamente siamo riusciti a ribaltarla tra virgolette anche se lui probabilmente doveva fare un blast su Kyogre sperare di tirarmelo giù ok tra l'altro mentre cerca volevo scusarmi per la partita prima che penso di aver rimesso comunque perché uno è stata una bella partita e non volevo perderla e due non ho altro tempo per registrarne altre ma sta questa web mi si sconnette di continuo e io non posso controllare durante il video quindi mi scuso se è senza ma spero vada bene comunque perché appunto davvero farò veramente è schifo devo comprarmene una più presto ma devo vedere allora nel frattempo abbiamo beccato un 1.500 con Gardevoir Graudon Cerrim Hitmontop Kyurem White e Tapococo allora qua Scolipede non lo trovo benissimo anche se contro Manga Gardevoir fa bene più o meno contro si prende danno soltanto da Graudon sì un po' da tutti in realtà perché anche cioè non ha delle difese ottime qua Naganah del io le direi sempre Naganah dell'Iveltal con dietro Chiogre sicuro e Oscolipede o Tsarina anche Tsarina qua non è male perché fa bene contro Graudon cioè ok perde da Chiurem però potrei pensare Scolipede o Tsarina 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 potrebbe servirmi anche l'helping end spero veramente che non succeda niente questa partita con la facecam perché mi sta dando un sacco di non so che problemi abbia vabbè vediamo vediamo speriamo fate tutto bene allora ok parte la sfida di Kaito allenatore nel frattempo guard e guard è un top ok siamo partiti con tra l'oltre forse guard è pure scarf secondo me vediamo dovrebbe avere trace ok no non è scarf siamo più veloci forse sesce ci traccia ora tetra di Veltal io quasi quasi mettere zarine fare sludge wave no non è vero facciamo sludge bomb va non si sa mai sludge bomb e zarine proviamo così vediamo un attimo cosa fa lui penso tipo penso sia sesce guard infatti è probabile che moriremo da psychic quello che ha insomma vediamo un po' comunque stiamo lentamente cioè lentamente alla fine io imbatto il suo gioco solo per registrare quindi con tutte le lotte prima eravamo un po' sotto adesso ci stiamo riprendendo leggermente con con il rating ok lui va di fake out regalità di zarina va bene sludge bomb se non sei sesce dai lo so sesce un poison al sesce no ok ha messo triccrum ha messo triccrum maglia male 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 qua dovevamo lì dare zarina la ganade la saperlo ok va bene cioè non va bene però sono finta che vada bene qua ci puoi fare tipo feint su guard più che altro perché fa paura graudon e perché non voglio perdere una ganade la anche soprattutto fake out feint che va e lui ci farà class combat su chi su zarina ci sta non ci fa tweet keo per fortuna lui ok che sfrutta la triccrum aveva solo se è solo aveva graudon penso ok tomotop qua che tra l'altro muore con le difese droppate ok ci bustiamo solo che sarà tosta qua perché lui ci entra con graudon e ci fa un mucchio di danni vediamo c'ha pure tabu cocco ok va bene un cocco graudon ok noi tricamente dalle spade non dovremmo morirci quindi io farei tipo power whip sludge bomb non sono sicuro perché quanto manca di triccrum tre turni sono tanti tre turni lui penso faccia le spade però probabile che sia anche tipo band vediamo eh io farei vediamo un attimo chi è che abbiamo dietro i veltel ok se è band si locca sulle spade di fare tipo sludge bomb nuove protex quel turno dopo faccio helping end full play su graudon sperando che il suo coco sia più veloce dei nostri veltel cioè che sia un coco max speed praticamente o che non ci faccia troppi danni e poi se alai forb comunque può essere un problema se alai forb graudon lo dico perché ci fa comunque danno ai veltel ok serenosa protezione lui fa di spade data può accusa protezione ok ok non è a v e va di fire punch ok ok siamo di lì quindi non penso a sto punto sia band se no non sarebbe loccato su su sta mossa qua ok qua farei vigor colpo su graudon e sempre sludge bomb su tapu coco si tratta siamo più lenti del suo grado ma questo cosa ha messo trick room a fare crit crit no non è un crit questo grado allora era cos'era wukles vabbè va bene ok questo è un 4 a 0 perché non può reggere sludge bomb a p1 neanche av e tra l'altro non lo era quindi va bene due vittorie non due a 0 questo è un 4 a 0 ma due vittorie per noi oggi direi che forse l'avevo già detto nell'intro ma vedrete due video di seguito di poter dire la sua perché finché non mi trovo a registrare con gioppi il suo team di san paolo non ho un team per il push to the top quindi vi verrete probabilmente due video attaccati se riesco a registrarli di di poter dire la sua con questo team io comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace iscrivi se ancora non lo siete e noi ci vediamo tra due giorni con un'altra questa di push può dire la sua spero spero che sia registrata la web ma adesso controllo comunque ciao a tutti ragazzi grazie a tutti ciao a tutti